Luciano Tirinnanzi è un giornalista e anche editore, la sua casa Paesi Edizioni in vista del prossimo 21 gennaio, centenario della nascita del Partito Comunista Italiano, pubblicherà due libri molto interessanti e molto particolari. Il primo è che i comunisti lo fanno meglio, un altro è una serie di testimonianze da Bruno Vespa, Bersani, Bertinotti, Achille Occhetto, Lucia Annunziata, Massimo D'Alema, Emanuele Magaluso, che è morto proprio stanotte e quindi questo può essere considerato il suo ultimo intervento nel vostro libro del vecchio senatore con tanta storia nel comunismo italiano, Emanuele Magaluso, Gian Piero Muglini, Pietro Folena, quindi abbiamo un misto di personaggi che hanno vissuto la storia del Partito Comunista, intellettuali e anche osservatori. Sì, io ho voluto raccogliere quante più adesioni possibili in questo che era un progetto nato neanche troppo tempo fa, però in vista ovviamente del centenario del 21 gennaio del 21, quando a Livorno appunto la scissione all'inizio del 1900 determinò le sorti del Partito Socialista e la nascita di quello comunista d'Italia, di cui Magaluso, che oggi è venuto a mancare e che ricordiamo, fu importante esponente in quota migliorista e che ha raccontato, è la sua ultima testimonianza scritta a questo libro, la sua appartenenza durante l'epoca fascista e quindi durante la resistenza come clandestinità. Poi ovviamente tutto si è evoluto, ma il punto non è omaggiare ed elogiare il Partito Comunista in sé, perché siamo in buona compagnia, molti altri autorevoli politologi e saggisti ne hanno scritto. Noi volevamo, con il distacco di generazioni che non hanno vissuto quell'epoca, fare un omaggio semmai alle future generazioni, perché possano voler leggere, capire il senso, l'alto valore di quello che era la politica del Novecento. Poi si può discutere dell'ideologia e di quello che ha rappresentato il comunismo nel mondo, ma sicuramente in Italia ha trovato uno sfogo democratico, anzi è stato argine al sostituire una dittatura, quella fascista, con un'altra, quella bolscevica, e ha mantenuto, anzi si è innestato, innervato nella società, gli ha dato una costituzione e comunque ha contribuito a, e gli ha dato una scuola di partito alla quale, visti anche i pessimi esempi che abbiamo oggi noi a Montecitorio, sarebbe bene che molti si rifacessero e ripensassero la politica. Così, molto intellettuali, appunto, di destra e di sinistra, da Veneziani a Buttafuoco, Annunziata, Mughini, e importanti giornalisti come Bruno Vespa, ma anche i protagonisti di quella politica, a cominciare da Massimo D'Alema, il primo comunista ad aver fatto parte di un governo, poi una volta finita l'esperienza dell'89. Ecco, tutti loro insieme offrono, attraverso confidenze e racconti personali, uno spaccato di quell'epoca. Ecco, Tire Innanzi è un esperto, perché è laureato in scienze politiche e relazioni internazionali all'Università di Pisa, quindi, diciamo, mastica la politica da sempre, anche se è un giovane giornalista, è un giovane editore. La caratteristica, intanto, complimenti perché mettere insieme in uno stesso libro Occhetto e D'Alema è stata un'impresa, come dire, notevole, notevole. Ecco, cosa esce fuori da queste testimonianze? Cioè, la particolarità che a me sembra è che alla fine il Partito Comunista Italiano, alla fine è un Partito Nazione, è diventato nel corso di questi decenni. Sì, Partito della Nazione, che tra l'altro è il titolo di un altro libro che abbiamo voluto pubblicare di Andrea Romano per il centenario, e che fa la trilogia insieme a Bellinguer e il diavolo, che prima avete fatto vedere, di cui vi ringrazio. Beh, sicuramente emerge una nostalgia, la prima cosa che ho notato, ma anche la passione politica dei protagonisti, che in un senso o nell'altro trasuda in ogni pagina, anche dai suoi più fieri avversari e avversatori. Ovviamente ci sono i più giovani, c'è anche la Meloni, perché noi avremmo voluto in realtà Silvio Berlusconi, che aveva inizialmente aderito al progetto, poi si è sfilato per ragioni insondabili. Ma comunque abbiamo voluto cogliere l'ala liberale, quella della destra pura e ovviamente la sinistra. In tutti loro emerge un punto comune che è il rispetto delle istituzioni, anzitutto, una grande cultura politica e il dominio e la predominanza del partito comunista, che per primo intercettò e capì l'importanza del presidiare la cultura, e quindi da ultimo anche questo discorso che facevo della nostalgia, cioè si sente la mancanza di un partito della nazione, ma un partito società, perché riusciva a mettere insieme una comunità intera, e pro e contro, ma in ogni caso tutto appariva molto più chiaro e il futuro appariva sicuramente più radioso di quello che oggi noi non riusciamo neanche a descrivere, anzi noi non lo vediamo nemmeno il futuro, guardiamo a domani mattina, a cominciare dal nostro presidente del consiglio, che spera di arrivare indenne alla fine dell'anno, perché il 23 la vedo dura ormai.